Guardate che gol pazzesco che ho appena subito da Eto' al novantesimo. I suoi, un dubbio che mi viene facendo questo tipo di affermazione, quanti di quelli che lui ha adesso sono sicuri di andare al mondiale? Perché, e così faccio contento Adriano allargando il risultato e dando giustificazione a quello che lui ha detto, da quello che so la convinzione a che chi se potesse è di ritornare. Pazzesco.